C'è un paio di trusciani che facciano i cittadini di anni e anni. Io ho 60 anni e ero prima di me. Perché nessuno vengono noi e vengono una festa lì. E chiedono il pastor che facciano i cittadini che facciano con me, se no che sono nuvi. Cioè, fra i giovani siamo tutti i fradici. Stiamo insieme sul Cretto e ci siamo in il 31 di ottobre. Tutto lì in che vengono, facendo una spaghettata insieme, e siamo in davanti fino a circa l'alba. Non c'è lì di cocchi dunga di qui. Il faiar è una planta che da cui... Cioè, il burro è stai clamato. Il fucco vengono creato lì, lo tenono all'unca. Quindi, per esempio il peggio, lo fanno flamma e non lo fanno burro. Invece il faiar lo tenono all'unca la burro. Quindi si può girarlo. Dopo lì ha una flamma più clara. La burro vengono proprio biela clara. Questa è la cidola. Praticamente che vengono infogate e dopo vengono lanciate. Le cidole vengono tirate alle ragazze non sposate, no? Dai 13 anni in poi. Una volta i regimi erano un po' più libri. Adesso bisogna stare attenti perché attirare le cidole è una roba un po' anche pericolosa perché si rischia di incendiare boschi e si rischia di fare del male a Inta, nemmai. Se un po' il bosco bisogna stare attenti se conti dal timcalè. Beh, la forza del lavoro è semplice stare degli incendi. Certamente anche se avessi di chiamare fuc si randivano fra loro, studiavano e tutto si finiva lì. Certamente, fino a qualche decennio fa il territorio era tanto più ben tenuto più curato, più sedato quindi il rischio di eventuali fuc era più base rispetto a comunque e chiaramente il bosco avanza e se invece di partire un fuc attualmente con interventi vigili del fuc eventualmente elicotteri come che aveva avuto quattro o cinque anni fa non è simpatico affrontare che spesa salino. Quindi, proprio sulla base di che roba chi è si riesce a rievitare e buttarlo. fino a notte penso che il risultato è un lavoro il fuc e dopo come aggiamo i vecchi il fuc ha compagnia la luta ha l'armonia il fuc そor guando Pelle Papa che tre andrea figlia di fidelmo romina figlia di natalegna ambra figlia di valentina la valentina figlia di venuto natacia figlia di marco e non la fia di Nevio, Elisa fia di Cristian e Valeria fia di Dennis. Tutti i santi e la compagnia. Compagnia per la più... Tutti i santi e la compagnia. 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 La tradizione si impistava. Obiettivamente una volta era fatta di più miseria. Si buttavano anche i quattro shtizi. Shtizi hanno un'importanza. Perché non avevano un po' di più di più. Una volta un'inca di Kencit lavorava in miniera. Portavano tutti i santi che si droppavano. Dinamite in pratica. E facciamo le scelte basate soprattutto sulla miseria. Dopo chiaramente evolversi dal team. Io penso che è un lavoro importante. Seguireci che l'inchi domanda. Quindi pensi più che altri. E' una tradizione che si sa che è semplice stare. Però la roba che colpisce di più sono i fucs, i ragazzi. E sul ragazzo, sul spettacolo pirotecnico che si fa. Si può giudicare più o meno il bielo. Lolaxo è in vigilant naturale. Cosa partecipare aspettava su Fuglie! Notiziamo a tutti io? Come sono! Classically he sul facili? E cosa succede? llupo venentece? Chi –